Abuso d'ufficio per aver permesso l'assunzione Regione Marche a tempo indeterminato di 776 persone violando la norma costituzionale che prevede l'ingresso nella pubblica amministrazione per concorso. È l'accusa per cui la Guardia di Finanza di Macerata, coordinata dalla Procura di Ancona, ha denunciato 53 dirigenti della Regione, ravvisando anche un danno all'ente regionale di oltre 121 milioni di euro. L'attività operativa di finanzieri è durata 18 mesi con esami testimoniali e documentali. Il contesto delineato dalle indagini è stato segnalato alla Procura regionale della Corte dei Conti per valutare un eventuale danno errariale. Dalle verifiche dell'operazione denominata Easy Job sarebbe emerso che i dirigenti denunciati avrebbero eluso la normativa di settore omettendo di predisporre i piani triennali del fabbisogno di personale, fondamentale per preventivare la necessità di assunzioni. In molti casi, poi, non sono state attivate le procedure di un concorso pubblico, mentre in altri sono stati predisposti bandi fotografia. In alcuni di questi, i requisiti previsti sono stati fotografati su quelli effettivamente posseduti dai lavoratori interessati. Nell'inchiesta, inoltre, sono coinvolti anche 12 dipendenti regionali. 11 di loro, secondo l'accusa, sarebbero stati stabilizzati senza rispetto delle norme o con bandi fotografia. Infatti, avrebbero attestato negli atti di avere dei requisiti in realtà non posseduti. Per questo sono stati denunciati per falso ideologico. Invece, per un dodicesimo lavoratore denunciato, l'ipotesi di addebito è di truffa aggravata.